Paradiso Beach, è mai che canzone fu più azzeccata per la festa di tutti i santi, no? Perché, come si dice, qualcuno ha qualche santo in paradiso, a volte, quando si vuole dire che qualcuno è un raccomandato, tipo il nostro Luciano, perché altrimenti non avrebbe senso la sua presenza qua, perché ai santi ci si rivolge per chiedere le grazie, no? Perdono! Poi si dice, grazie, graziella, e grazie alla sua presenza stasera qua, che so che ci vuole spiegare una cosa precisa sui santi, no? Sì, perché tu ti sei dimenticato una cosa, Stefani. Cosa mi sono dire? I Stefani. I Stefani. No, non c'è niente da ridere, Stefani. No, assolutamente. Allora, se tu vuoi chiedere la grazia ai santi, lo devi fare bene, non lo puoi fare così come ti prendi. Certo, è una cosa seria. Signor Alan, ci siamo spiegati, tu devi fare sempre le preghiere con il dialetto originale del santo, con il metodo camaleonti. Per esempio, se tu vuoi fare la grazia a Sant'Ambrosio e gli parli napoletani, Sant'Ambrosio dice, ma chi vuole chieste? Certo, così dice, perché Sant'Ambrosio parla con... Chi vuole chieste? Così parla. Che vuole chieste? Sant'Ambrosio. E allora io invece faccio finta di essere la loro compaesana, così le faccio simpatia. Ah, col metodo camaleonti. Sì, sì. Me ne dà una dimostrazione? Per esempio, no, io entro in chiesa e allora davanti a me ci sono tutte le statue distanti, mi faccio una bella passeggiata e comincio. Come conosce questo? Uè, Sant'Ambrosio. Innanzitutto nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo, prima cosa. Seconda cosa, mi dai una mano per il progetto di merchandising dell'azienda? No, sai perché? Perché se mi dai una mano te la svoltiamo, eh. Anche perché io lavoro, guadagno, pago, pretendo. San Gennaro. San Gennaro. San Gennaro, no, io ti devo chiedere solo una cosa, San Gennaro. La casa Capri. Solo questo, San Gennaro, solo questo. Si, ma capito. Da quanti anni te so pregare, San Pied? No, 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 me lo devi dire da quanti anni te so pregare. Me lo devi dire. Me so a far mazzo tanto, San Pied, mazzo tanto. Ho pagato tutti i ricontributi ai dipendenti. Ma mio marito è schiattato? Eh, allora lo seria perché se deve continuare a chiamare da Umberto? Se deve chiamare da Franca? Giusto, giusto. Io ho mandato con la lettera al sindaco niente. La lettera al municipio manco per niente. Se deve chiamare da Franca. La Franca, non si scomporre. Ma già si, i capelli mi danno passidio. Non si scomporre. San Antonio da Padova ti mi ha dato a far la grazia di farmi diventare bionda totalmente, sai, perché cosa ricresita, che mi manda fuori le testa, mi manda i matti, poi mi sento sta roba in testa, che non capisco che cosa... Non è che tengo le corna, San Nicola, no, San Nicola, fammi capire questa cosa. Con chi è che sta facendo l'inciusci di mio marito, San Nicola? San Nicola, se è compatti, batti un colpo. Non è che ci sono capace, se è con Mimma, San Nicola, batti due colpi. Con Mimma. San Nicola, se è con Whitney, non cadono tutte le dinde del sorriso finto che si ritrova. Si capite? L'ho fatto, San Nicola. E poi a un certo punto, io arrivo dal mio santo preferito. Il San Paolo del Brasile. Ah, San Paolo del Brasile. Eh, San Paolo. Il San Paolo, io oggi non ho da dire proprio niente. Felice. Io, San Paolo, vorrei solo un pochino di saudade. Ola, che cosa mai linda, musica di grazia, a eleminia, che bene che faza, un doze balanze, cammino al do mar. E viva! E viva San Paolo del Brasile! Meravigliosa! 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 Meravigliosa!